Merce contraffatta, controlli a rapallo da parte dei carabinieri, scattata una denuncia segnalata e due commercianti per favoreggiamento. Aspetti da chiarire, futura gestione della piscina del Poggiolino, precisazioni arrivano dall'amministrazione comunale. Arrivano i funghi, le prime nascite già da questa domenica, secondo gli esperti. Ecco allora qualche consiglio per gli appassionati cercatori di Miceti. Una targa a caffese, il Cive di Lavagna ieri sera ha omaggiato lo storico presidente in carica per vent'anni durante la cena benefica al Brignardello con ricavata a favore del Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Anteprima di pane e olio, domani e domenica a Sestri Levante in occasione dell'evento autunnale, intanto in città protagonista anche l'eudo per spettacoli e visite dei bambini. Lettera d'addio, Michele Russo ha pubblicato attraverso la pagina Facebook della Virtus Entella il suo saluto a Chiavari, giocherà nella Cremonese. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, dunque la cronaca in primo piano. Incominciamo con i controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolar modo dei carabinieri della stazione di Rapallo contro la merce contraffatta. Vediamo. Questa mattina Rapallo e i carabinieri di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino nel corso di un servizio mirato hanno denunciato per commercio di prodotti, consegni, mendaci e ricettazione e per inosservanza del provvedimento del divieto di ritorno in città per tre anni, un senegalese di 54 anni con precedenti di polizia. L'uomo è stato trovato in possesso di alcune borse con il marchio contraffatto. Durante lo stesso contesto sono stati altresì denunciati per favoreggiamento personale due donne commercianti rapallesi, poiché permettevano allo straniero di occultare la marcia contraffatta presso il loro negozio, allo scopo di eludere così i controlli dei militari. Principio di incendio di un autobus in A12 nel tratto di autostrada tra Lavagna e Sestri Levante in una piazzola. L'allarme è scattato intorno alle 16.30, sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari. Attimi di panico ma tutto si è risolto senza feriti, pare ci sia stato un guasto al motore. E incidente nel pomeriggio di oggi a Chiavari in via Santa Chiara, una donna è stata estratta da una vettura dai vigili del fuoco. Traffico in tilt, due le auto coinvolte, sul posto anche il servizio 118 che per le stesse modalità è intervenuto anche in Fontana Buona, in località Pian dei Ratti nel comune di Orero dove ci sono stati tre feriti lievi a seguito di uno scontro tra due macchine portati al pronto soccorso di Lavagna. Aspetti da chiarire per la futura gestione della piscina del Poggiolino. Siamo a Rapallo, le precisazioni arrivano dall'amministrazione comunale. Sentiamo. Sulla futura gestione dell'impianto natatorio del Poggiolino, l'amministrazione di Rapallo intende chiarire alcuni aspetti. Entro il 30 settembre, data della scadenza dell'ultima proroga al contratto con l'attuale gestore Rapallo Nuoto e Pallanuoto, verrà indetto un bando di gara come da delibera di giunta di ieri e con le modalità decise dal dirigente della ripartizione comunale competente. A prescindere da chi si aggiudicherà la gara, dovrà essere garantito alla Rapallo Nuoto e Pallanuoto lo svolgimento della stagione agonistica attraverso l'inserimento nel bando di un passaggio che contempli la necessità di avere a disposizione per la prossima stagione spazi acquei per allenamenti, partite di campionato ed eventualmente per ottemperare ad altri impegni precedentemente assunti. A tal proposito è previsto nei prossimi giorni proprio un incontro specifico tra amministrazione comunale e dirigenti. A fronte del protarsi di proroghe imputabili anche alla precedente amministrazione, abbiamo deciso di agire nel pieno della legalità e della trasparenza indicendo una gara per l'affidamento dell'impianto natatorio, integra il vice sindaco per Giorgio Brigati. Questa scelta ci è sembrata l'unica strada percorribile per garantire il rispetto della legalità e il regolare svolgimento della stagione agonistica 2015-2016. Ancora cronaca, due allevatori conviventi e residenti in Val Brevenna hanno sporto denuncia ai carabinieri di Casarza e Ligure nei confronti di una donna di 38 anni del comune della Val Petronio. A seguito di un dissidio riconducibile ad accordi sull'accoppiamento dei rispettivi animali, la donna telefonicamente ha minacciato i due accusandoli inoltre di averle sottratto un cucciolo nato dal precedente accoppiamento. La signora è stata denunciata per minacce ed ingiurie. Arrivano i funghi, prime nascite secondo gli esperti già da questa domenica. Vediamo allora qualche consiglio e anche qualche accorgimento. Appassionati cercatori di funghi, sta per arrivare il vostro momento. Le prime nascite, secondo gli esperti, si vedranno comparire nei castagni, probabilmente già da questa domenica, anche se è possibile qualche giorno di ritardo vista la siccità, mentre nei faggi si dovrà attendere 10-15 giorni dalla pioggia più significativa caduta tra il 14 e il 16 agosto. Con i funghi però al condizionale d'obbligo perché ogni pur minimo imprevisto può ritardare o annullare la formazione delle muffe e la conseguente nascita dei micetti. Ricercare i funghi dalle nostre parti è diventata una tradizione. In molti si cimentano in questo passatempo, che però richiede buona conoscenza delle specie commestibili e i regolamenti per la raccolta. Proprio come primo punto, occorre conoscere se quel tale bosco ricade all'interno di un consorzio comunale o se invece un bosco è libero, spiega Umberto Righi, vigilanza Fipsas Levante. Sarà distinguibile da una serie di tabelle, solitamente poste ai margini delle strade, dove sarà riportata l'indicazione proprietà privata, il nome del consorzio, la raccolta dei prodotti del sottobosco, riservata ai soci o possessori di permesso. Il costo giornaliero si aggira tra gli 8 e 10 euro, mentre lo stagionale supera mediamente i 150 euro. Occorre conoscere anche i giorni dove la raccolta dei funghi è consentita e anche la stagione di inizio e fine raccolta. Oltre al permesso, quando si va per funghi si devono osservare le quantità di raccolta per giornata, ribadisce Righi, che non possono superare il massimo di 3 kg anche nei boschi liberi. Inoltre i funghi vanno trasportati e riposti in contenitori forati, l'ottimo sono i cestini di vimini, che essendo rigidi preservano i funghi da rotture, pur lasciando libera la diffusione delle spore. Assolutamente vietato l'utilizzo di zaini e borse di plastica a stagne. Sono previste sanzioni da 50-100 euro e sequestro del raccolto, sia nei boschi gestiti dai consorzi, sia nel demanio e sia nei boschi liberi, e che non sono previste deroghe. La notte scorsa i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per guida in stato di ebrezza, accertato mediante l'etilometro, un 19enne equatoriano, studente di Genova e un 26enne milanese. I due sono stati sorpresi rispettivamente alla guida di un veicolo e di un motociclo. Le patenti sono state ritirate. Il CIV di Lavagna ieri sera ha omaggiato lo storico presidente dei commercianti in carica per 20 anni, Nico Caffese, durante la cena di beneficenza al porticato Brignardello. Vediamo. Specialità tipica assaporata in una cornice d'eccezione, il porticato Brignardello. È andata in scena ieri sera la cena benefica dei commercianti di Lavagna. La manifestazione, che ha sempre un risvolto benefico, è stata molto partecipata anche quest'anno. Il ricavato andrà a favore del Comitato Assistenza Malati Tiguglio. L'abbiamo già detto, Entella TV servirà per l'acquisto, contribuirà perché non serve, costa 100 mila euro questo letto robotizzato che vogliamo comprare, contribuirà all'acquisto di questo letto che serve per i malati colpiti da ictus e per tutti quei malati che non riescono a mantenere la posizione retta. La serata, devo dire, sta scorrendo piacevole. Probabilmente la motivazione che lega questa cena è talmente meritevole che le persone sono a corse numerose e devo dire che il risultato è veramente sopra ogni attesa. Il porticato Brignardello è un fiore all'occhiale della nostra città, quindi mangiare qua sotto penso che sia qualcosa di completamente diverso rispetto a qualsiasi altro posto della nostra bellissima cittadina. Il menu questa sera, grazie a tutti i negozi di alimentari e non solo, ma anche ai volontari che hanno offerto di propria tasca e col proprio lavoro, è composto da un flan di zucchine, salumi, focaccetta, lasagne cotte al forno con ragù, l'asado, insalatina e pomodori della nostra piana e le dolcezze di lavagna offerte da tutte le pasticcerie. Durante la serata i commercianti hanno anche consegnato una targa a Nico Caffese, storico presidente delle CIV, alla guida del Consorzio per 20 anni, per la sua passione e il suo impegno a favore della città di lavagna e del commercio. Intanto l'estate sta giungendo al termine, commercianti e comuni stilano un primo bilancio degli eventi realizzati fin qui. Sono veramente contenta questa sera di vedere tanti commercianti, come tutti gli anni, all'opera per una serata, come al solito, ben riuscita. La settimana prossima si concluderà la stagione estiva con il Gran Galà. Quest'anno hanno veramente dato il meglio di sé. Siamo contentissimi e onorati. Lavagna è viva, eventi, musica, torta dei fieschi, gran successo. Sono contentissima. Grazie. Code interminabili alle biglietterie della stazione ferroviaria di Rapallo, la regione Liguria è solidale con gli utenti e il comune, che da tempo denuncia l'affollamento di turisti nelle ore di punta, ma ammette di non avere competenze su questo servizio. A Rapallo, come a Sanremo e in altre stazioni, le biglietterie rientrano nella gestione commerciale di Trenitalia e non sono comprese né regolamentate dal contratto di servizio con la regione Liguria, ha spiegato di fatti l'assessore ai trasporti e turismo Gianni Berlino. Ciò non toglie che la situazione sia insostenibile. Anche per l'immagine di Rapallo e della Liguria occorre che Trenitalia intervenga con urgenza per eliminare il disservizio, chiude il rappresentante dell'ente genovese. Adesso invece parliamo di bando per la scuola. Dopo quello che parte proprio dalla regione Liguria, arriva direttamente un sostegno anche dal comune di Sestri Levante. Sentiamo. In concomitanza con l'uscita del bando regionale per l'attribuzione di borse di studio, per libri di testo, per gli alunni iscritti alle scuole medie e superiori, il comune di Sestri Levante ha approvato un analogo bando per le scuole primarie, medie e superiori per le spese sostenute nell'anno 2014-2015, per mensa, trasporto e attività comprese nel piano dell'offerta formativa. Le condizioni di ammissibilità sono analoghe a quelle per le borse regionali. Prevedono per le famiglie con ISE inferiore o pari a 30.000 euro di poter presentare domanda entro il 30 ottobre 2015 tramite compilazione degli appositi moduli. Data la concomitanza, è necessario fare attenzione. Le domande per borse di studio di libri di testo vanno presentate presso l'istituto che il ragazzo frequenterà nell'anno scolastico 2015-2016. Le domande per le borse di studio delle spese scolastiche vanno presentate presso l'ufficio ricezione atti del comune di Sestri, in piazza Matteotti, sempre entro il 30 ottobre. Utilizziamo i fondi svincolati, li mettiamo a disposizione delle famiglie per le spese scolastiche. La regione ha stanziato risorse per il rimborso dei costi legati all'acquisto dei libri. Con l'apertura di questo bando, diamo la possibilità di continuare ad ottenere un contributo anche per altri costi che vengono affrontati dai genitori, ha detto l'assessore ai servizi sociali, Lucia Pinasco. I moduli sono scaricabili sul sito del comune www.comune.sestri-levante.g.it o si possono ritirare presso lo sportello Servizio alla Persona di Viale Dante. Si inaugura domani mattina la 31esima edizione di Expo Fontana Buona Tiguglio con una cerimonia di apertura che vede la partecipazione di un vasto partare di autorità. Dopo il saluto della Presidente del GAL genovese, Marisa Bacigalupo, seguiranno quelli del Sindaco di San Colombano-Certenoli, Giovanni Solari, dell'assessore regionale allo sviluppo dell'entroterra, Stefano Mai, del consigliere della città metropolitana, Giovanni Vassallo, del Vescovo della Diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. Sarà presente anche Piero Fossati, già commissario straordinario della provincia di Genova, che riceverà un riconoscimento da parte del Comune di San Colombano-Certenoli per l'impegno profuso per il territorio. Ci saranno inoltre il senatore Vito Vattuone, l'europarlamentare Brando Benifei, Flavio Repetto, già presidente di Fondazione Carige e presidente di Ela Dufour, Pierluigi Vinai, segretario di Anci Liguria, e i consiglieri regionali Luca Garibaldi ed Alessandro Pugioni. Domani si terrà un presidio a Lavagna in piazza Vittorio Veneto o Angolo Via Roma per proseguire con la raccolta firme degli otto quesiti sui quattro temi referendari proposti dall'Associazione Possibile, promossi tra gli altri dagli onorevoli Luca Pastorino e Giuseppe Civati. Si tratta della riforma elettorale, Italicom, JobEx, i grandi opere, sblocca Italia, riforma della scuola. I cittadini che vorranno sottoscrivere i quesiti dovranno recarsi al banchetto dalle 9.30 alle 12.30 muniti di documento di identità. Inoltre si possono firmare i moduli a Lavagna nell'ufficio URP dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13, a Chiavari presso l'ufficio elettorale dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12. L'Associazione Possibile ricorda altresì che i moduli sono presenti anche negli uffici dei comuni di Sestri Levante, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Olio protagonista insieme ad altre eccellenze della nostra gastronomia, domani e domenica a Sestri Levante. Sentiamo il programma. Domani e domenica la città di Sestri Levante accoglie Aspettando Pane e Olio 2015, gustosa anteprima delle iniziative che animeranno l'evento autunnale. La manifestazione è promossa dal Comune, in collaborazione con le associazioni Marin Italy, la Compagnia dei Sapori, Totem Eventi. Scatta dunque domani il mercatino degli olivicoltori sestresi che si terrà in via Asilo Maria Teresa dalle 10 alle 21. Laboratori e dimostrazioni di cucina caratterizzeranno le due giornate in Baia del Silenzio nell'ex convento dell'Annunziata dove hanno sede le vetrine delle produzioni agroalimentari di qualità e lo shop di prodotti tipici. Gli appuntamenti presso l'ex convento dell'Annunziata proseguono domenica dalle 18 con lo show cooking Il pesce nasce in mare e muore nell'olio, spettacolo di cucina a cura dello chef Alessandro Dentone. Ricordiamo che per la seconda volta l'evento si freggerà del marchio Anci per Expo. Nell'ottica di valorizzazione sia delle produzioni enogastronomiche locali sia di quelle nazionali, domani e domenica dalle 10 alle 22 in piazza Matteotti ci sarà una mostra a mercato di prodotti di eccellenze ligure ed italiane. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Carasco a presentare un'interpellanza urgente sul gruppo VAB Protezione Civile è il capogruppo di centro per Carasco, Alfredo Rivara che mette in evidenza l'importanza di questo gruppo e dice in considerazione del fatto che siamo venuti a conoscenza delle dimissioni di tutto il gruppo VAB tranne uno o due volontari chiediamo le motivazioni per le quali l'amministrazione comunale non ci ha messo al corrente di tale avvenimento ed inoltre chiediamo al sindaco e all'amministrazione come intenda procedere per far fronte alle problematiche relative al territorio in considerazione del fatto che si avvicina l'autunno, stagione notoriamente foriera di eventi calamitosi e il comune in caso di allerta risulta scoperto dal gruppo di protezione civile. E adesso invece parliamo di visite decisamente speciali che in questi ultimi giorni stanno interessando il leudo di Sestri Levante e questo è possibile grazie alla collaborazione tra l'associazione dell'eudo, le scuole e la capitaneria. Vediamo. Amici dell'eudo, l'ufficio marittimo di Sestri Levante e le scuole. Tra queste realtà è iniziata una particolare collaborazione che ha permesso quest'estate di effettuare diverse visite guidate a partire dai piccoli che frequentano la materna di San Bartolomeo fino ai bambini del centro estivo comunale compresi i ragazzi di Chernobyl, ospiti anche quest'anno presso le famiglie del Tiguglio per il mese di agosto. I soci dell'associazione Amici dell'eudo hanno raccontato la loro storia la storia dell'imbarcazione, la sua importanza storica e hanno fatto visitare il leudo stesso ormeggiato al molo di Sestri Levante. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la Locamare con il capo Francesco Colella che ha concordato il luogo dell'attracco ed una posizione favorevole alla salita dei bambini. E rimaniamo a Sestri Levante e rimaniamo proprio in questa zona della città perché ieri sera al molo Adua Lilienne canta sul leudo dal porto della località dei Due Mari questo spettacolo e un assaggio in questo servizio. Advenuta 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 Io voglio che tu lo sorsi Tu cherchisci l'uomo Se tu l'emporti ailleurs Se tu dansi dansi Se tu te tracere di sol Tu cherchisci l'uomo Se tu lo troi dans l'esplame Tu te jetterei di sol Que tu me manques Se tu e dei flammes Se tu e dei flammes Corri d'un bagage Pour l'uniforme d'ange C'est pour lui, ma j'ai vu Se tu marrant ou s'affiche Se tu dirai sonore Que tu m'aimes Il est entré dans mon cœur Tu ne parles C'est pour lui, ma j'ai vu Il est entré dans mon cœur Dès que je l'aperçois Alors je suis à moi Mon cœur Qui Qu'est-ce que je l'aperçois Qu'est-ce que je l'aperçois Del gruppo insieme Per Nerone Il Ponte Riccardo Alessandro Bottino E Lucilla Bertonati Hanno richiesto Al sindaco Stefano Sudermani La convocazione Straordinaria Del Consiglio Comunale Denunciano il fatto Che per controversie Con il primo cittadino Non è stata rinnovata La sede di Ognio Del gruppo Alpini Val Fontana Buona Pertanto i consiglieri Chiedono spiegazioni Affinché la gestione Dell'impianto Non sia abbandonata In quanto svolge Un servizio Di primaria importanza Per la popolazione Inoltre Bottino E Bertonati Hanno inviato Un'interpellanza Al sindaco Anche per sollecitare Il ripristino Della vegetazione Nel centro storico Di Nerone In particolare Nella strada comunale Che conduce Al circolo Acli Siamo allo sport Calcio All'indomani Della riammissione Della Virtus Entella In Serie B Il difensore Michele Russo Annuncia ufficialmente Il suo passaggio Alla Cremonese E scrive Una lettera Di saluti A Chiavari E alla sua Ormai ex squadra Vediamo Michele Russo Ha ufficialmente Lasciato la Virtus Entella Per la Cremonese E oggi E' stata pubblicata Attraverso la pagina Facebook Del club di Via Gastaldi Una lettera Proprio alla sua Ormai ex squadra Amici Da oggi Per me Si apre una nuova Avventura professionale Inizia così La lettera di Russo Una sfida stimolante Che ho deciso Di cogliere spinto Dalla mia grande ambizione E dalla voglia Di mettermi sempre in gioco Finisce così Quella che finora E' stata l'esperienza Più bella Entusiasmante E appagante Della mia carriera Resa ancora più speciale Dal fatto Che ho avuto Il privilegio Di condividere Con voi Nella nostra città Questo Senz'altro Non è un addio Ma un arrivederci Seguirò la vetro Sentella da tifoso E tornerò a Chiavoli Ogni volta Che mi sarà possibile Prosegue Russo Riavolgendo Nella mente Le immagini Di questi Quattro anni È impossibile Per me Non commuovermi Ripensando La sfida di Casale Della mia prima stagione In bianco celeste Che ci ha permesso Di centrare La finale Playoff All'ultimo secondo Ho i gol Dedicati ai miei figli A pochi giorni Dalla notizia Che mia moglie Fosse in dolce attesa Senza dimenticare Ovviamente La storica promozione In serie B Ricordi che Parlerò sempre Con me E che mi hanno permesso Di diventare Il professionista E l'uomo Che sono oggi Parto con grandi aspettative Voglia E fame Ma anche Con un po' di malinconia Un grazie speciale Conclude Russo Lo dedico agli allenatori A tutti Dello staff tecnico Oltre che Ai medici E alla società Ma soprattutto Ai ragazzi E ai uomini Che in questi Quattro anni Hanno fatto parte Dello spogliatoio Bianco celeste Vi abbraccio tutti A presto Proseguono In Fontana Buona A Lumarzo I festeggiamenti Dedicati a Frank Sinatra In particolare Domani Alle 18.30 Nei pressi Della chiesetta Di Rossi Costruita Nel 1600 Dai contadini Del posto A poche decine Di metri Dalla casa Della mamma Di Sinatra Natalina Garaventa È in programma Un recital Del giovane Cantautore Giochino Costa Inoltre Si potrà vedere Una mostra Di libri Fotografie Sopramobili E arredi Vecchi Di un secolo E così Ci salutiamo Grazie Per essere rimasti Con noi Anche questa sera Io adesso Vi lascio Al meteo La programmazione Della rete Vi ricordo Che come sempre Potete rivedere In replica Questa edizione Del nostro Tg Alle 20.20 Sul canale 117 Tiguglio TV Trovate poi Le notizie Sul sito www.intellatv.net Sulla nostra pagina Facebook Su Twitter E trovate il Tg Tiguglio Anche sul canale Youtube La nuova edizione Domani Alle 12.45 Una buona serata In compagnia Dei nostri programmi Benvenuti al meteo Ecco le previsioni Per domani Sabato 22 agosto Giornata caratterizzata Da tempo tra poco Irregolarmente nuvoloso Disturbata da qualche passaggio Più consistente In mattinata In particolare sul ponente Gli addensamenti Nell'interno Potranno essere accompagnati Da qualche isolato rovescio In particolare Sulle alpi marittime Venti Deboli variabili O a regime di brezza Con qualche rinforzo orientale O sud orientale Le temperature previste Sulla costa 18 la minima 27 la massima Nell'interno 13 la minima 29 la massima Mare Poco mosso In parziale aumento Da est Sud est 8 la minima Mare sentences Grazie.